ciao a tutti oggi prepareremo il plum cake banana bread il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e venti minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo 00 bicarbonato vanillina maraschino fecola di patate zucchero di canna banane tagliate a pezzetti burro fuso lievito per dolci uova e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna la fecola di patate la farina il lievito il bicarbonato pizzico di sale e la vanillina ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 6 mettere da parte senza lavare il boccale mettere nel boccale la banana ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 6 aggiungere il burro e le uova ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5 aggiungere il composto di farina messo da parte e il maraschino che è facoltativo ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5 trasferire il composto in uno stampo da plum cake da 23 x 8 cm decorare con delle strisce di banana cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50 minuti circa fare sempre la prova a stecchino il banana bread è pronto lasciamolo raffreddare prima di rimuovere dallo stampo plum cake banana bread grazie e alla prossima ricetta grazie